Sindaco di piazza di ritorno dalla Fiera Internazionale dell'Immobiliare di Cannes, abbiamo visto, sentito di questi tanti interessamenti sul Portovecchio, francesi, tedeschi, anche dall'Oman un interessamento. Sai cos'è? Che noi abbiamo una peculiarità che gli altri non hanno, cioè noi abbiamo pochi metri da piazza unità, inizia il Portovecchio, 65 etri, noi abbiamo una grande opportunità a 100 metri dal centro della città, all'interno della città, mentre gli altri parlano facciamo nel deserto gli arabi, i miliardi di investimento eccetera e dopo c'è un interesse incredibile per Trieste, questo naturalmente da sindaco mi ha fatto molto piacere perché tutti sono impazziti per Trieste e abbiamo avuto dei contatti molto importanti, poi c'erano anche persone che conosciamo, oltre che naturalmente Totti e tanti altri politici, insomma per cui molto 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 bene. Tra questi investitori c'è qualcuno che l'ha convinto più degli altri, qualche aneddoto, qualche richiesta magari particolare da parte di questi investitori internazionali? Sai, oltre che fare il sindaco ho fatto l'imprenditore, nel senso che gli spiegavo che in pochi anni li puoi mettere in resa, provo a pensare se fai le marine, provo a pensare se fai gli alberghi, nell'immediato parte dell'economia, mentre altri che fanno degli investimenti enormi in giro per il mondo ma poi devono appena lanciare il risultato dei loro investimenti, mentre noi se facciamo un investimento parte immediatamente, siamo al centro della città. Ormai si tratta diciamo così di abboccamenti che possono diventare atti pratici perché parte la gara di evidenza pubblica a breve quindi come dire questi interessamenti possono diventare qualcosa di concreto. La dico in maniera chiara, entro giugno dovremmo aver chiuso, dovremmo aver affidato di tutto. Quindi lei pensa all'affidamento di parte o di alcune porzioni? No, sapete che bisogna fare le gare, nella pubblica amministrazione bisogna sempre comportarsi ad altezza, però sono convinto che ormai l'obiettivo è lì, a pochi metri.